Un incontro disteso e cordiale sul tema della Cina e dei diritti umani. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha incontrato in una seduta a porte chiuse in Vaticano il segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin. Nel corso dei colloqui le parti hanno presentato le rispettive posizioni riguardo i rapporti con la Repubblica Popolare Cinese in un clima di rispetto disteso e cordiale a riferito la Santa Sede. Giunto a Roma ieri Pompeo aveva subito criticato la mancanza di libertà religiosa in Cina chiedendo alla Chiesa Cattolica di difendere i diritti umani. Dichiarazioni che hanno creato tensione fra le diplomazie americana e della Santa Sede alla vigilia dell'incontro di oggi. Papa Francesco non ha nessuna intenzione di deflettere dalla linea del dialogo con Pechino una politica di lungo periodo avviata dai suoi immediati predecessori e che guarda la Cina nel quadro di una strategia di lungo respiro di rispettosa penetrazione del cattolicesimo in Asia. Pompeo non è stato ricevuto dal pontefice ma solo dal suo omologo Parolin. Il Vaticano ha spiegato che in campagna elettorale Bergoglio non effettua incontri che possono apparire di parte. Ma pur non celando le divergenze la Santa Sede nemmeno oggi ha chiuso al dialogo con l'amministrazione usa forse più lontana in assoluto dal palazzo apostolico.